Sapevate chi è una macchina del tempo? Beh, ce l'ho! È buona cosa avvisare prima di fare improvvise panoramiche. Forte, eh? Indovinate per cosa l'ho appena usata? Tornare agli albori della vita umana per capire cosa ci ha resi così frivoli e meschini? Molto meglio! Sono andato nel 2056 e ho preso il videogioco più realistico che sarà mai creato! Siamo condannati all'estinzione. Mettetevi comodi! State per assistere al video di gameplay più pazzesco di tutto l'internet! Brando, non guardarmi così, ti prego. Eh, scossa! Avrei bisogno della TV per... Brando sta per lasciare Jenna! E quanto ci vorrà? Vorrei provare questo! Tranquillo! Sette ore e ho finito il binge-watching! Sprecchi fiato! Non ho intenzione di schiodarne e non puoi farci nulla! Nulla, eh? Ehi, Gaston! Hai sentito l'ultima moda? Il selfie mentre si fanno flessioni al parco! Figurati! Ciao! Di qualcosa! Qualcosa di stupido che mi aiuti in questa decisione sofferta! Io faccio un giro al parco! Che c'è Pedro che... Ehi, ma... Aspettavo questo momento da anni! Maratona horror pomeridiana! Ti prego! Lasciami la TV! Ti faccio tutti i compiti! Ok, ci sto! Questi esercizi sono più difficili del previsto! Ma non abbastanza! Compiti fatti! Grazie! Ma dovresti... Lasciarmi la TV! E perché? Tu hai detto ti faccio i compiti e io... Ok, non ho mai detto nulla a scordare la TV! Mi hai fregato! No! E allora? Sembrava quasi vero, eh? Frustrante e deprimente! Che realismo! Già! Ora scusate, devo superare il livello di cripta! Chiudi tu il video! Mettete like e cliccate un po' di queste cose che vedete! Chi lo sa dove vi porteranno!